Sono in corso nella laguna di Grado le ricerche di un uomo, un frulano di mezza età, che questo pomeriggio non è più risalito a bordo di un'imbarcazione dopo essersi immerso in acqua per un bagno al largo del banco d'orio. A quanto si apprende il natante si trovava nei pressi dell'isola di Morgo e l'uomo era in compagnia di alcuni amici. Diverse le squadre impegnate nelle ricerche che coinvolgono la guardia costiera, i vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Monfalcone, i sommozzatori da Trieste e un elicottero partito da Bologna. A terra le ricerche vengono coordinate dall'unità di crisi locale dei vigili del fuoco. Ricerche in corso anche a Pordenone nella zona di Rorai Grande per un uomo di 79 anni che non dà più notizie di seda ieri mattina. Alle unici si sono attivate le squadre di ricerca dei vigili del fuoco con campo base al parco Cimolai. Le operazioni sono partite dal punto in cui l'uomo era stato avvistato per l'ultima volta ieri mattina alle ore 10. Al momento stanno operando sul posto otto unità dei pompieri con l'ausilio di due unità cinofile e volontari di protezione civile.